Cosa rappresenta per un Paese come il nostro o per la comunità in genere? E' un'occasione per avere degli strumenti che aiutano a fare conoscenza, consapevolezza, quindi noi cerchiamo in queste giornate di diffondere la cultura statistica, quindi la capacità di potersi servire di questi strumenti per poter raccontare la realtà e abbiamo visto come in queste circostanze conoscere ciò che accade e conoscere in maniera oggettiva sia estremamente importante. Quello che ISTRA fa nello specifico è garantire la qualità dell'informazione statistica, quindi certificare che si tratta di dati affidabili, raccolti con procedure che danno a loro la certificazione di qualità e anche le analisi consentono poi di cogliere ciò che realmente avviene nella maniera più appropriata. Quindi è l'occasione per dire che abbiamo tutti uno strumento attraverso la statistica con cui conoscere meglio la vita che ci circonda e quindi forse anche per decidere e migliorare la qualità della nostra esistenza.